Allora eccoci con Lepre, uno dei miei rincampi di questa gara, anzitutto un commento a caldo su un'altra bella vittoria da parte delle Fasiliti Siamo stati combatti come al solito, il risultato dice 3-0 per noi, la partita in realtà è stata molto più complessa così Ci abbiamo aspettati, siamo stati corti, abbiamo sfruttato due palli da fermo, siamo stati molto bravi, compatti, sono un bel gruppo squadra, c'è la differenza Effettivamente uno legge 3-0 sembra una partita un po' più netta, invece loro comunque il possesso ce l'hanno avuto Dov'è che ha meritato per te quest'oggi le Fasiliti? Abbiamo sfruttato bene due palli da fermo e le ripartenze potevamo fare ancora meglio Dovevo fare più gol di ripartenze, sono bravo Valentino a 5 dalla fine a fare il 3-0 Però possiamo migliorare molto le ripartenze, oggi potevamo fare molto di più Sicuramente migliorare le sue ripartenze, però invece ho visto molto bene oggi la compattezza della squadra Perché avete lasciato alla fine tirare sempre da lontano gli avversari Sì, in quello siamo molto bravi, anzi c'è il nostro punto di forza di compattarci, di fare gruppo sia in campo Quando ci mettiamo a difendere siamo tosti e sia fuori dal campo, penso che ciò che stiamo per il campo si riflette nella nostra fase di pensiero Infatti mi appoggio a questa definizione per farti un'ultima domanda La solita, il gruppo si vede che è ben affiatato, poi chiunque entra dà un contributo importante ogni volta Siamo un bellissimo gruppo, siamo molto giovani, con qualche elemento di esperienza come il capitano Donato Perché ora è fuori per infortunio, ma l'aspettiamo, come Lorenzo De Angeli, come Alessandro Canè Abbiamo varia gente fuori che ci darà ancora di più una mano e siamo un bel miscuglio di giovani Accompagnati appunto da gente di esperienza che ci aiuta moltissimo E serve questa amalgama, ancora grazie e alla prossima Grazie a te